Siamo con Cristina Pavia, sesta classificata di questo Boom Bisop Six Handed, la prima eliminata dal tavolo televisivo, io so che tu sei un po' rammaricata insomma. Sì, rammaricato perché non ho visto veramente carte, non ho potuto giocare, un tavolo chiusissimo, io non ho visto carte quindi non ho potuto esprimere il gioco in nessun modo, ho provato a giocare una mano e sono uscita, sono morta praticamente di buia, ero troppo corta e non vedendo carte non si gioca. Esatto, esatto, vabbè, anche la sfortuna, però voglio dire insomma comunque un ottimo risultato sia per la squadra che per te. Soprattutto per la squadra penso di aver fatto il massimo, cioè, card dead totale, tutto il tavolo, ho visto una volta, cioè per dire solo l'asso, asso, asso, non kickerato, e ho fatto il massimo che potevo. Vabbè, io comunque ti faccio i complimenti perché hai fatto un ottimo torneo. Grazie.